Marco Conese, Tommaso Conese del progetto EMOVED della città di Matera, complimenti innanzitutto per la vittoria e un commento a caldo, vi chiediamo appunto sulla vittoria di oggi. Siamo felicissimi di questo riconoscimento e appunto speriamo, come hai detto più volte oggi, di riuscire con questo progetto a dare mobilità e accessibilità a chi non riesce quotidianamente e appunto a facilitare il movimento, la quotidianità di tutti i cittadini e turisti che ne hanno bisogno. Ecco, al di là della vittoria, adesso invece vi chiediamo che cosa vi portate dentro da questa esperienza in generale. Sicuramente più sicurezza, sicuramente un approccio diverso a quello che è un problema che abbiamo avvertito e abbiamo cominciato a sperimentare in città. Quindi effettivamente abbiamo cominciato a investire tempo e risorse su questo progetto, su questa esperienza, credendoci fortemente e a maggior ragione oggi trovare supporto, condivisione attraverso questa commissione, la partecipazione della UISP, sicuramente ci rafforza ulteriormente. Grazie mille.